Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi lunedì 20 luglio. Questa sera c'è Quarta Repubblica, come dice l'Unione Sarda, quarto potere, ma va bene anche quarto grado, quello che volete voi, l'importante è che oggi si riesca a vedere una puntata di Quarta Repubblica, però oggi per tutti quanti gli italiani normali, cioè quelli che hanno una partita IVA, quelli che non sono dipendenti pubblici o pensionati, non che non siano normali, però sembra che ci sono 5 milioni di persone di cui ci si può fregare, no? Sono quelli che hanno le partite IVA, sono quelli che non hanno avuto il bonus per il fondo perduto, sono quelli che in realtà durante il lockdown hanno perso di più, sono quelli che in realtà sono pieni di protocolli. Bene, per queste partite IVA, per quelle che secondo la Ministra Castelli dovrebbero occuparsi di altro nella vita, potrebbero inventarsi nuovi business, bene, noi ci potremmo inventare nuovi business. Nel frattempo la Ministra Castelli ha la ritenuta alla fonte, cioè sostanzialmente a loro gli tolgono i soldi alla fonte, mentre noi che dobbiamo pagarli il 20 luglio per questo motivo da circa 50 anni, da una certa sinistra, siamo considerati degli evasori fiscali, noi il 20 luglio dobbiamo pagare le imposte. E con questi geni del governo siamo riusciti a rimandare le imposte dal 30 giugno al 20 luglio, il che vuol dire che 8 miliardi e mezzo oggi arriveranno allo Stato dai cosiddetti autonomi, che sono quelli che devono pagare saldo e a conto. In realtà, attraverso queste incredibili, oggi non la leggo sui giornali, loro hanno guadagnato 20 giorni, cioè noi dobbiamo pagare entro il 30 giugno, pagheremo oggi, il 20 luglio. Ma coloro, e ce ne sono tanti, che avrebbero voluto rateizzare il debito fiscale, cosa che è fattibile in 6 rate mensili, comode rate mensili, da giugno a settembre sostanzialmente, la retizzazione non sarà più di 6 rate, ma di 5 rate. Perciò tu hai guadagnato 20 giorni nel pagamento, ma c'hai una rata in meno, il che ovviamente è una beffa oltre al danno. Pensate che oggi tutti i giornali parlino di questa vicenda, e cioè che in realtà le partite IVA, le più colpite, perché dipendenti pubblici sono stati colpiti, no, dipendenti privati, sì relativamente, ma comunque hanno lo stipendio, la ritenuta, hanno la cassa integrazione. Se c'è qualcuno che è stato colpito dal Covid, ovviamente sono partite IVA, autonomi, tutti i lavoratori indipendenti, pensate poi gli stagionari, cioè neanche voglio parlare di tante categorie che sono state colpite, ma per loro le tasse si devono sempre pagare. Nel frattempo, in questa surreale rassegna stampa che ci tocca fare in queste ore, stanno ancora trattando il Consiglio Europeo, cioè mentre c'è una crisi della Madonna in questo punto in Italia, nel Consiglio Europeo si tratta, cioè il Consiglio Europeo è quel consiglio dei capi di Stato, dei 27 paesi che hanno aderito all'Europa, e ringraziamo ancora, grazie Prodi, per aver allargato l'Europa a 27 paesi, rendendola di fatto totalmente inutile e ingestibile, e come possiamo dire, senza la possibilità di appunto gestire il dissenso di qualcuno, e il dissenso di qualcuno è dell'Olanda, che non è sola, perché i cosiddetti paesi frugali, così si chiamano sui giornali, un nome orrendo, perché dà il senso della frugalità, che è già una cosa che mi fa cagare, ma comunque non è neanche il senso di questi stati, Finlandia, 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 con tutto rispetto, Olanda, Austria, Danimarca, che sono contrari all'idea che questo recovery fund sia di dimensioni così ampie, e oggi non si riesce a capire neanche bene se sono d'accordo o meno sul fatto che i piani di riforma nazionale debbano essere decisi e approvati o dalla Commissione o dal Consiglio europeo. Immaginate che cosa vorrà dire che il Consiglio europeo, lo stesso che oggi non decide sul recovery fund, sulla sua entità, quando dovrà decidere e mettersi d'accordo in 27 se le riforme fiscali fatte dall'Italia, non solo quelle fiscali, sono corrette. È una roba da pazzi, soltanto Rutte poteva pensare una cosa di questo tipo, ma la pensa evidentemente in maniera maliziosa per fottere l'Italia, ma il punto è che i nostri commenti oggi sono molto interessanti nel senso della loro banalità. Il primo maestro in questo è un tempo un uomo molto intelligente nelle sue analisi, è Mieli, perché oggi Mieli sul Corriere della Sera e la posizione del Corriere della Sera è la seguente. C'è una cosa che può essere utile al Presidente del Consiglio, c'è quella foto con la Merkel, con Macron, con Sanchez e Ursula von der Leyen e dall'altra parte isolati, il premier austriaco, finlandese, danese, olandese e svedese. A parte il fatto che queste idee dei giornali italiani che prendono una foto e da quella portano tutta una narrativa e una stronzata che soltanto un superficiale può fare, perché nei vertici c'è la foto, si separano, si uniscono, e la stessa foto la fece Corrutte e Conte una settimana fa che si stringevano la mano, vi ricordate, sembravano due manichini di cenci che si stringevano le mani fuori dall'aia. Insomma, le foto valgono quello che valgono, in realtà qualcuno di voi può veramente pensare che l'Olanda faccia tutto sto casino senza avere la Merkel tutto sommato alleata, anche se qualche spin oggi dice che la Merkel è arrabbiata. Insomma, le questioni non si riducono alle foto opportunity che racconta Mieli. E soprattutto l'altra cosa incredibile, l'altra cosa di tutta questa vicenda, è la superficialità dell'analisi, perché voglio dire, il punto non è se vince o non vince Conte, il punto è che cosa convenga all'Italia in questo momento, e che cosa convenga all'Italia in senso un po' più lato, perché quando Conte dice a Rutte vedrai domani i mercati che cosa succederà se tu non chiudi l'accordo, in realtà è quello che spesso gli stranini hanno detto a Conte, quando Conte ha fatto quelle minchiate, che non bisogna dimenticare, di enormi sperecchi di risorse pubbliche, come Quotacento, come Quotacento in realtà non l'hanno neanche tirata a sufficienza, come il reddito di cittadinanza e come questi 80 miliardi, 80 miliardi buttati nel cesso dei due decreti, di cui l'unica cosa che doveva servire era la cassa integrazione, non sono neanche riusciti a darle in modo tempestivo. L'altra questione su cui si dibatte sostanzialmente, Becchis è quello che la scrive meglio di tutti oggi sul tempo, sono in sostanza quanti miliardi in meno ci danno all'Italia, perché questa è la ciccia della vicenda, si bala tra 20 e 25 miliardi, dovranno essere 80, saranno 60, saranno 55, non si riesce bene a capire quale sarà l'entità esatta della sconfitta del conto italiano. E Becchis dice che si dovrebbe fare una cosa molto semplice, bisognerebbe che Conte, invece di cincischiare tanto, lo potrebbe fare con l'amica di Travaglio, che ha appena reso presidente dell'ENI, aggiungo io, bisognerebbe chiedere all'ENI, che è società pubblica, di togliere le 57 società che ha in Olanda e le 100 società pubbliche che sono in Olanda. Questa è la proposta di Becchis, come per dire, beh, l'Olanda ha un vantaggio fiscale mostruoso perché le aziende vanno tutte quante là. Però il punto che sfugge a Becchis, purtroppo, che il problema non è togliere quelle aziende dall'Olanda per farle venire in Italia e danneggiarle fiscalmente, bisognerebbe dare un vantaggio fiscale a quelle aziende in Italia, pari e patto a quello che gli dà l'Olanda. Se no, non ha veramente nessun senso per un'azienda che compete nel mondo darsi una martellata sulle palle e venire in Italia per fare il dispetto all'Olanda. Ovvio che no. Il pezzo forse più olandese di oggi è quello di Carioti, non ha simpatia nei confronti di Rutte, come si può avere simpatia nei confronti di Rutte, nessuno probabilmente ce lo può spiegare in questo mondo, ma che cosa succede? Carioti ci dice, beh ragazzi attenzione perché noi stiamo chiedendo soldi per dargli ai fan nulloni, che in realtà era un po' quello che dicevo prima, cioè come gli spendiamo questi soldi. Insomma, oggi sui giornali c'è di tutto, ma c'è di tutto sul nulla, perché questi stanno ancora trattando per capire come verranno utilizzati questi soldi del fondo del recovery fund. Una cosa è certa, dove essere il grande successo della diplomazia italiana è una grande cagata che ancora non ha avuto una soluzione. Oggi però vi segnalo Ilvo Diamanti, perché questa è una cosa che piace molto a Casalino e piace molto a Conte, perché Ilvo Diamanti oggi su Repubblica, comprensibilmente piace alla Coppia, perché Ilvo Diamanti dice oggi sulla Repubblica che questo è il premier più amato dagli italiani dal 1994 ad oggi. Vi rendete conto che dal 1994 ad oggi è il premier più amato dagli italiani. Vale quindi per Conte quello che è valso, secondo me, come battuta che ho fatto ieri sulla Castelli. L'avete votato, questo Conte non l'avete manco votato, ma adesso lo apprezzate e tenetevelo. Devo dire che questo successe anche con Monti e oggi sta succedendo con Conte. L'idea è che Conte piaccia molto agli italiani, è su Repubblica e pensate un po' quanto piacerà a Casalino che ne ha costruito dall'avvocato del papolo questa specie di, diciamo, mostro dei rapporti europei che viaggia tra la Merkel e Rutte. È morta Maria Giulia Crespi, tre generazioni di giornalisti sono stati condizionati dai suoi rapporti, dalle sue sopracciglia e dai suoi snobismi di sinistra insopportabili. Io non l'ho conosciuta, non ho avuto rapporti con lei, faccio parte di un'altra generazione, faccio parte di quei cafoni giornalisti di cui, devo dirvi la verità, anche i rapporti con quel mondo lì me ne fotte pari a zero. Oggi i giornali però hanno ovviamente tributato alla morte della zarina dell'editoria con scarsissima originalità tutti che parlano di questa donna chiamandola la zarina dell'editoria. Da anche il senso di queste tre generazioni di giornalisti che, devo dire, che di originalità se non seguire le minchiate del politicamente corretto ne hanno avuto poco. Il pezzo più bello, forse, è quello di Sgarbi, come sempre paradossale, sul giornale che dice se non ci fosse stata lei nel 74, porro, si parvaliceto ovviamente, porro, Sallusti e il Sottoscritto non sarebbero al giornale perché il giornale semplicemente non sarebbe nato. E devo dire che presa così insomma bisogna essere grati per essere andati in quel giornale di cui mi onoro di fare il vice direttore che nasce proprio in contrasto a quell'idea politicamente corretta che è ancora piena di tre generazioni giornalisti che fanno i maestri di questa, diciamo, follia contemporanea in cui si vive. Covid, beh, vabbè, ragazzi, qui c'è il solito memento Mori di Ricciardi. Di attenzione, se continuate così succederà come nella Spagna. Intanto non è la Spagna e Barcellona, non è Barcellona il quartiere di Barcellona, molto ampio. Comunque, e non hanno fatto nessun lockdown a Barcellona, caro Ricciardi, mi hanno consigliato di non uscire. I casi in Spagna in Barcellona sono aumentati a 1500, la cosa non è ancora, diciamo, però capisco, il memento Mori. Cioè, quando siete in vacanza e quando siete a Ponza come spiega oggi il messaggero, quando siete a Capri come spiega oggi il mattino, figli dello stesso editore, state attenti, vi dovete mettere le mascherine. Non si riesce a capire perché il messaggero ce l'abbia contro le barche a Ponza, che saranno tante e forse direbbe la Crespi sono un po' cafone, però il punto fondamentale è che la barca è forse un po' più sicura di qualche altro... Cioè, stai in barca, sei all'aperto, sei al mare, boh, boh, forse ci sarà Ricciardi che ci spiegherà che dobbiamo assolutamente mettere la museruola anche agli yacht. Nel frattempo, invece, il sindaco di Capri ha detto che nelle vie della Movida si deve mettere la museruola. Non voglio neanche arrabbiarmi quest'oggi perché io sono di lunedì, dobbiamo pensare a... come possiamo dire... a questa sera non lo so, non ho neanche voglia veramente di arrabbiarmi. Tratterò anche decentemente Lazzolina, il ministro dell'istituzione senza prove, la quale ha detto voglio tutti in classe. Sono molto contento che lei voglia tutti in classe, bisognerebbe adoperarsi per farlo. Siamo ancora a metà luglio ancora non sappiamo come dovranno andare in classe e dice è pronto il protocollo e là voglio vedere come sarà il protocollo. Le genielate che si inventano al ministero dell'istituzione ci permette di avere qualche dubbio rispetto a quello che si è inventato fino ad oggi dal plexigas ai distanziamenti e alla complicità dei sindacati e vedremo come succederà. Beh, stupendo oggi il pezzo contro gli stregoni del 5G fatto da... si chiama Ronchetti. È uno studioso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che spiega tutte le minchiate che stanno dietro a tutti questi sindaci questi geni di destra di sinistra del sud del nord ricevo migliaia di lettere non me le mandate perché io la penso come il foglio di oggi il 5G è un nuovo software che permette alla telefonia cellulare che tutti quanti avete e che ci ha migliorato la nostra vita di avere una latenza inferiore cioè i tempi di risposta sono molto inferiori rispetto nei dati ovviamente rispetto a quelli del 4G non ci roppete le balle del Tax Day ne abbiamo parlato direi che per oggi è tutto noi ci diamo appuntamento questa sera con Quarta Repubblica e ovviamente con il sito nicolaforro.it ciao